Prova a pensare a una gestione della tua lista di clienti che non sia su carta, che non sia su Excel, ma su una piattaforma che ti permetta di avere una strategia grazie alla quale tu riesci a dire anche in modo automatico la cosa giusta al cliente giusto nel momento giusto. E allora questo fa tutta la differenza del mondo perché ti permette di riportare i clienti all'interno del tuo studio, ti permette di attivare dei clienti come ambassador che innescano un passaparola per portarti nuovi clienti proprio a te e grazie proprio sempre a questa strategia unita a questa piattaforma di marketing potrai decidere di comunicare con i tuoi clienti su più piattaforme sempre con la stessa persona attraverso Whatsapp, l'email, gli sms, messager, Instagram Direct. Questa è una gestione della lista che ti permetterà di far crescere il fatturato all'interno del tuo studio fotografico e se ti interessa approfondire questo tema mettiti nella lista d'attesa per il webinar che sto preparando a settembre proprio alla gestione della lista. Sarà un webinar gratuito, molto lungo, molto dettagliato che ti permetterà di fare un salto quantico nella gestione dei tuoi contatti dello studio fotografico. Ma vediamo un po' giusto in breve per darti un'idea della potenza di questa struttura di quello che puoi fare con una lista ben gestita a livello informatico. Devi sapere che esiste una legge che io dico che un cliente acquisito vale sette volte di più di un cliente che non ci conosce. Perché? Perché è sette volte più facile far tornare un cliente acquisito rispetto che a conquistarne uno nuovo che ancora non si fida o non conosce il nostro brand. Ha bisogno di una spintina in più, di un atto di fiducia che invece queste persone hanno fatto. E allora queste persone che magari sono già nella nostra lista contatti devono ricevere comunicazioni da parte del nostro studio fotografico. E per riceverle devono essere all'interno di un database che non sia un database cartaceo, che non sia un foglio Excel che non riesce a mandare ad esempio email in modo molto facile, che non riesce a mandare sms in modo molto facile, ma deve essere appunto all'interno di una piattaforma ben organizzata in aree ben specifiche, con caratteristiche ben specifiche, che permetta di individuare le persone giuste a cui inviare particolari tipi di messaggi, ad esempio messaggi su Facebook Messenger. Questo fa veramente tutta la differenza del mondo. E oggigiorno si dice che una persona che ha bisogno di un particolare servizio da parte ad esempio di un fotografo, abbia bisogno di 9-11 punti di contatto con il nostro brand per cercare di innescare un atto di fiducia, un'azione nei nostri confronti. Ovviamente questi punti di contatto possono essere anche di meno quando si parla di proprietà, perché il nostro cliente ha già una fiducia molto importante nei nostri confronti, ma ovviamente anche i nostri clienti estremamente sbadati, estremamente incasinati dai ritmi della vita moderna, potrebbero dimenticarsi di noi, potrebbero non leggere tutti i nostri messaggi, potrebbero leggere le email e non gli sms, ma potrebbero non leggere gli sms e invece essere più presenti ad esempio su Facebook, oppure essere più presenti ad esempio sul canale Whatsapp, oppure prediligere Instagram Direct se non gli vogliamo rompere le scatole sempre su Whatsapp. E avere un unico canale di comunicazione, un'unica piattaforma di comunicazione che ti permette di decidere in maniera dinamica quali sono i canali di comunicazione con i tuoi clienti è veramente avere, significa veramente avere una marcia in più. Inoltre quello che ti dico è che nel momento in cui le persone entrano nel nostro sistema di marketing, noi possiamo generare delle comunicazioni automatiche che io adesso disegno ad esempio con delle sequenze di messaggi email, che noi possiamo decidere di inviare automaticamente ai nostri clienti che sono entrati appunto nella nostra rete di contatti. Messaggi ad esempio che se entra una persona in gravidanza, una donna in gravidanza, possono essere i messaggi per vendere il newborn, per raccontare della pancia piatta dopo la gravidanza, per proporre lo smash cake, per proporre il battesimo, se sono dei clienti che ti chiedono un preventivo per il loro matrimonio potrebbero entrare in una sequenza personalizzata automatica che nei mesi successivi o nelle settimane successive al primo contatto raccontano il tuo modo di fotografare, il fatto che ad esempio offre anche i video o che offre altri servizi che magari loro non sanno perché magari non hai avuto modo di parlarci oppure magari nella chiacchierata veloce che hai fatto non hai avuto tempo di presentare il fatto che gestisci anche le partecipazioni fotografiche, il tablò del giorno del matrimonio. Insomma queste sequenze automatiche che funzionano ad esempio anche per le aziende, per nutrire contatti di fotografi anche nel settore delle aziende, queste sequenze automatiche ti consentono di restare attaccato al tuo cliente o al tuo contatto che non è ancora cliente e farlo ritornare a te o comunque tenerlo molto molto vicino al tuo brand. Si dice nel marketing che una buona gestione della lista contatti faccia crescere del 10% il fatturato di un'azienda senza fare investimenti pubblicitari. Questo è un dato incontrovertibile che riguarda il marketing a livello 360 gradi in tutto il mondo. Calato nel nostro settore significa dimenticare appunto di avere una gestione farraginosa dei contatti, avere un unico punto in cui noi siamo consapevoli di avere tutte le informazioni, avere un unico punto in cui sparare i messaggi anche in modo automatico e mirato sfruttando i canali più famosi del momento come ti ho detto l'SMS, l'email, Facebook, Messenger, Instagram Direct e Whatsapp e per scoprirlo se sei veramente interessato, sei interessata a vedere in dettaglio la piattaforma e il metodo che noi applichiamo nei nostri studi fotografici ti consiglio di cliccare sul link che trovi all'interno di questo video e metterti nella lista d'attesa per avere l'avviso di quando a settembre farò un webinar molto approfondito su tutto il sistema con cui noi in Hacker Photographer gestiamo i nostri clienti in ambito wedding, in ambito family e in ambito aziendale. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!